La tranquilla realtà della provincia piacentina più volte nel corso della sua storia recente si è confrontata con episodi criminosi che ne hanno turbato la quiete. Liti degenerate nel sangue, omicidi premeditati, regolamenti di conti, sette sataniche, persone scomparse e mai più tornate a casa. Alcuni casi risolti, altri ancora aperti. Provincia Thriller, la nuova trasmissione di Tele Libertà ha aperto gli archivi storici del quotidiano Libertà e dell'Emittente per scavare tra i fatti più oscuri accaduti dal dopoguerra ad oggi. Case ancora scottanti ed altri, il cui ricordo non è mai stato rimosso. La prima puntata di Provincia Thriller andrà in onda sabato 2 novembre alle 20.20 dando il via al nuovo palinsesto di Tele Libertà. Purtroppo sono stati i fatti di cronaca che abbiamo registrato col telegiornale a indurci a pensare che fosse utile anche contestualizzare e capire l'importanza di questi fatti. Noi abbiamo avuto la fortuna di avere un archivio importantissimo sia per quanto riguarda il cartaceo, quindi il nostro giornale, il quotidiano Libertà sia per quanto riguarda invece l'audio-video con Tele Libertà. E da questo patrimonio abbiamo attinto, lo ha fatto la nostra collega Nicoletta Marenghi e abbiamo dato vita a questa nuova trasmissione. È un po' la prima volta per Tele Libertà. Invece per quanto riguarda il palinsesto, la forma è iniziata a prenderla a settembre-ottobre con il debutto delle trasmissioni sportive e poi con Piacenza di Notte che invece ha segnato un po' una svolta. Abbiamo dato molta importanza alla grafica, abbiamo dato un occhio diverso, abbiamo puntato e guardato anche i giovani. Adesso invece con Marenghi, con questa trasmissione, entriamo nella storia. documentiamo quello che è successo a Piacenza e quindi sono importanti per noi. Il primo appuntamento sarà sabato 2 novembre. Che cosa ci aspetta in questa puntata d'esordio? Nella prima puntata che si intitola L'ombra del diavolo ci siamo occupati della presenza delle sette sataniche nella chiesa degli appestati di Borgo Trebbia, vicende che riguardano prevalentemente gli anni 90. Le abbiamo ricostruite insieme agli inquirenti, insieme ai giornalisti, agli esperti che al tempo si sono occupati di questi fatti particolarmente suggestivi, diciamo anche piuttosto paurosi. Abbiamo ricostruito tutta la vicenda e la trasmetteremo appunto nella prima puntata domani sera alle 20.20 su Tele Libertà. Grazie a tutti.